Ben ritrovato! Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com, stagione 2, episodio 2, come se fosse una serie su Netflix, della nostra diretta da divano. Ciao Martina, ciao Leo. Buonasera a tutti, ben trovati. No, abbiamo perso Leo, così. Vabbè, andiamo con tutto il saluto. Lo recupereremo, dai, adesso vediamo. Lo recupereremo, lo recupereremo, vabbè. Speriamo per il bene. Bene, intanto ciao Alessandro da Ponte Lagoscuro, ci siamo visti anche la scorsa settimana a un evento organizzato in piazza. Leo, che è successo? Ecco, dove sei andato Leo? Ero scappato, ero scappato. Ciao a tutti. Ciao anche a Vic che ci saluta, ciao Alberto, arrivano i saluti, sono sempre molto graditi perché ci fa sentire vicini a tutti voi. Allora, ragazzi, siamo reduci da una settimana, intanto ciao Isa, ciao Maurizio e Francesca, ciao Mattia, ciao Stefano, Stefano che anche stavolta, no aspetta forse, lui era Cristiano che chiedeva il cameo del gatto di casa squarzanti. Vabbè, prima della fine della stagione vogliamo rivederlo sto gatto. Arriverà, arriverà, dai, quando la stagione è fredda arriverà. Allora, dicevo, è stata una settimana in cui abbiamo visto due partite, una non è andata bene, al gattazzo scrive Stefano, una non è andata benissimo, sconfitta di misura a Reggio Calabria, e l'altra una vittoria di misura, però risultato insomma un po' casuale, nel senso che non rispecchia esattamente com'è andata la partita. Ciao Stefano, che lui dice voglio il gatto, ciao Davide, ciao Sole. Sarapina alla quale ho scritto stasera, mi ha detto, sì che non era il caso, visto che c'è stato l'esonore di Dicarlo, insomma sarebbe stato un po' strano partecipare a una trasmissione, come la nostra trasmissione, chiamata trasmissione, a una diretta come la nostra. Vabbè, comunque, io avevo letto stupidamente, aspetta premessa, stupidamente, non avevo considerato che dalla diretta di mercoledì scorso a questa ci sarebbero state due partite e non una, quindi avrei dovuto chiedervi anche un mezzo pronostico sull'uomo chiave di Spalvicenza, cosa che invece non ho fatto. Quindi io in quella situazione mi ero giocato Mancosu, che Leo ha guadagnato il rigore, non ha fatto una prestazione memorabile, però ha guadagnato il rigore. Leo aveva detto Latte Latte, che ha preso un bel cinquone, tipo nelle pagelle, e la Marta aveva indicato Tripaldelli, anche lui non è che sia stato chissà quale brillante. Quindi qua mi prendo io il punto, scusate, ma me lo prendo io. Scusa, Andrea Sartini ci dice, Sara Pinna lasciatela là, l'ultima volta non ha portato proprio bene. Ah, è vero, però abbiamo fatto quella diretta prima di Vicenza Spal a ritorno e sì, non fu una bella giornata. Vabbè, comunque ci penseremo eventualmente a ritorno, eventualmente, non abbiamo fretta. Ragazzi, per adesso i numeri sono circoscritti, però dicono che la Spal, uno, è la squadra della Serie B che tira di più in porta, e due, è una squadra che per adesso fa punti solo in casa. Quale delle due statistiche vi impressiona di più e quale, secondo voi, è più significativa? Beh, senza dubbio la prima, perché comunque cinque partite è un campione statistico non enorme, però comunque importante. Io non vorrei cominciare adesso la manfrina delle partite. Ci sono, devo solo fare un'operazione. Sì, ti stai svestendo. Allora, non vorrei cominciare, dopo così poche partite, a fare già la manfrina della Spal in casa, Fatot, fuori Fatot, anche perché l'anno scorso ci ha accompagnato. Tessa roba, tessa roba. Io, ovviamente, esatto, e aveva anche un po' seccato la pianta, ecco. Un po' perché l'anno scorso c'erano pochi contenuti da dire, visto che poi il pubblico non c'era. Quest'anno in parte c'è, però comunque io aspetterei un attimo a fare... Pochi contenuti, abbiamo fatto 40 puntate di sta diretta, ne abbiamo detto di robe? No, pochi contenuti, nel senso che a livello di... non c'era pubblico, non c'erano condizionamente schede. In realtà, tra l'altro è una cosa impressionante parlare con l'uomo nero qua che parla e non si vede. Ma al di là di questo, quello che avevamo sottolineato anche l'altra volta erano i tiri in porta, perché questo Spal fa una cosa che gli altri Spal non facevano che divertire. Anche ieri sera la partita è finita 3-2, è un risultato bugiardo, perché se uno la guarda sembra che la partita... Che ci sia stata partita. Esatto, in realtà non è stato così. Quindi, insomma, io penso che quello di tiri in porta potrà essere una delle cose sulle quali Clotet insiste tantissimo, perché, insomma, ti vuol dire fare un call più degli avversari, anche se sembra banale dirlo. Secondo me è un dato impressionante. Dicevi, Marta? No, stavo dicendo che anche oggi lo zio Paperone d'America ha detto che anche secondo lui è un po' presto per parlare di differenza tra risultati in casa e risultati in trasferta, no? Chi sarebbe lo zio Paperone d'America? T'acopina! Va bene. Non so se in realtà è americano o è di sicuro il zio, non lo so, gli dovremmo chiedere. Beh, zio Paperone sicuramente, dai, lo zio d'America quello ricco, no? Quello figo. No, vabbè, comunque, al di là di questo, T'acopina ha detto anche un sacco di cose interessanti ieri, e tra l'altro, così per la cabala, sarà interessante capire se parlerà solo quando la SPAL vince oppure anche quando la SPAL fa qualche risoluzione meno brillante nel post partita. Tra le altre cose ha detto Marta che la SPAL sta andando oltre quelle che erano le aspettative iniziali, no? Orla, tu cosa ne pensi? Beh, sicuramente si era partiti con aspettative basse, perché l'obiettivo era abbassare i montengaggi, fare una squadra giovane, in grado di crescere nel tempo, che permettesse a Clotet di sviluppare certe idee. Quindi, se questo era il punto di partenza, T'acopina ha ragione, siamo sopra le aspettative, perché si vede che l'idea di gioco è un'idea di gioco molto interessante, che la SPAL riesce a praticare in molte occasioni, perché poi, guardiamoci, a Reggio Calabria non è stata giocata una gran partita, è vero, però è stata persa per degli errori, degli errori che una squadra mediamente giovane può fare, mentre magari una più esperta riesce ad evitare. Tanto è un teorema non sempre dimostrabile, visto che la squadra dell'anno scorso della SPAL comunque aveva un livello di esperienza accettabile, comunque faceva delle stupidaggini macroscopiche. Quindi, secondo me, T'acopina ha motivo di essere contento, non abbiamo ancora ben chiaro quali sono le potenzialità effettive di questa squadra, ma nessuno in questa fase ce l'ha, se non il Pisa forse, che adesso si sta convincendo di poter condurre questo campionato, perché anche il Monza, di cui si è parlato tanto, d'agosto, settembre... Il Parma stesso. Il Parma ha preso tre banane dalla Ternana oggi, e questo è un discorso che dovrà, non dico preoccupare Clotet, però dovrà ovviamente prestare attenzione a questo risultato. Quindi, insomma, ci sono tutti i presupposti per vedere una stagione interessante, non dico vincente, però intanto vediamo cosa succede. Un po' di commenti, vedo che piovono commenti. Allora, Fabrizio è d'accordo con te, dice, secondo me, tempo un mese diventeremo la mia vagante del campionato addirittura. Magari avremo alti e bassi, ma non regaleremo niente a nessuno. I giovani danno questo, ma danno anche tanto entusiasmo. Avete visto ieri Colombo che ha fatto stage diving in Curva Ovest, come se fosse una rock star, no? Avete presente quando i cantanti delle band si buttano in mezzo al pubblico? E di solito vengono presi. Come? E di solito vengono presi. Esatto. Beh, anche lì Colombo, se ci fosse riuscito, l'avrebbero tirato su e messo in curva a cantare insieme agli altri ragazzi. insomma, quindi è stata una bella scena. Comunque sono tutti molto contenti per SEC. Infatti vedo che i Vischi a Vicenza ieri avriavanzò SEC, giusto? Non ci ha sblocciato Viviani? No, no, ma ancora non succederà mai. Ma ormai lo si ha messi via. No, dovrei andare io al centro sportivo un giorno e beccarlo. Ammesso che non decide di tirarmi sotto con la macchina. Dirittura? No, anche no, non perché, ma perché lì davanti passa una velocità supersonica. Quando si va in sede bisogna sempre avere otto occhi perché c'è sempre il rischio di finire sotto un mega SUV o una macchina sportiva. Però sì, magari ci sblocca. Facciamo così, Buzzo, obiettivo di fine stagione della nostra diretta per farci sbloccare su Instagram da Viviani. In diretta da Viviani. Esatto, in diretta. In diretta, cioè lui ci fa vedere il telefono che ci sblocca. Quindi dovrei invitarlo. Dovrei invitarlo ad una diretta, quindi. Ma questa cosa che io avrei qualcosa contro Viviani comunque non ha fondamento. L'ho criticato, ero scettico, ero perplesso. Non ritenevo potesse tornare a livelli sopra la media e invece mi sta smentendo. Ma voglio dire, se uno non ha dei preconcetti nei confronti delle persone o dei professionisti è anche disposto a ricredersi. E i fatti mi stanno facendo ricredere. No, anche perché, orla, leggendo un attimo in giro, adesso sembrano tutti stimatori di Viviani oppure tutti a dire no, sì, perché io l'avevo detto. Cioè, in realtà, io credo faccia parte delle cose e soprattutto del nostro ruolo dire quando un giocatore obiettivamente era in condizioni impresentabili, non giocava, insomma, ha avuto una marea di sfide una dietro l'altra. In quell'unimento lì dovevamo dire la verità com'era. Oggi, Viviani, io ieri l'ho visto per la prima volta da vivo dopo un po' di tempo, ma del fatto che ero sette occhiali e poi mi li sono messi, cioè, a un certo punto l'ho guardato e ho detto ma è Viviani quello lì? Cioè, anche fisicamente si è asciugato. Cioè, anche non solo tecnicamente, che abbiamo visto la partita che ha fatto, ha rincorso tutti come un matto, ha fatto i tecni in mezzo al campo, una punizione, vabbè, ma quelle sono sempre calciate bene. Cioè, secondo me ha preso anche una consapevolezza diversa di essere tornato con un giocatore che conoscevamo appena visto a Ferrara, no? Quindi... Oh, mi segnalo intanto che a proposito di giocatori che ci devono farli credere, Di Francesco ha fatto gol nell'Empoli, Cagliari 0-Empoli 1. Vabbè, direi che per adesso è un problema di qualcun altro, però qualche mese... Di Mazzarri, sì. Scusa, Morla, Viviani come piedi non credo abbia molti rivali in B. Se corrono per lui è un guadagno, considerando poi i tiri da fermo nel calcio di oggi contano molto. Ah, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, ma guardate che... Che Viviani abbia capacità tecniche e conoscenza del gioco, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Infatti l'anno scorso, quando ha fatto qualche partita con la primavera, dopo lunghi mesi di problemi fisici assortiti, siamo andati a vederlo e abbiamo detto che purtroppo la condizione fisica non lo sorregge, fa fatica. Anche con i ragazzini, comunque, faceva un'ora e poi si vedeva che entrava un po' in affanno. Le perplessità erano tutte lì. Cioè, sulla sua capacità di tornare un giocatore in grado di giocare anche 30 partite a stagione. Perché nelle ultime due stagioni e mezzo avrà giocato un totale di 18 partite, 20 partite, una roba del genere. Se per un così prolungato periodo di tempo un giocatore ha problemi, che possono essere problemi fisici, ma anche di fiducia, sì, anche di morale, le incognite sono sempre tante. Quindi ci teniamo a ribadire che non abbiamo niente contro Viviani. Ma no, nessuno ha mai avuto niente contro nessuno. Spesso alcuni tifosi, ma anche i giocatoristi, si convincono che i giornalisti ce l'abbiano con loro, perché magari prendono un mezzo voto in meno. Anche ieri sera della gente ci ha scritto ah ma Vicari ce l'avete con Vicari, se avesse fatto l'autogol avrebbe preso 5. A parte che quello non è un autogol, è una deviazione sfigata. Cioè non è un autogol, dai. E poi, se vai a guardare la tabella dei voti stamattina, su 7 testate che prendiamo in esame, 2 hanno dato 6 e mezzo a Vicari e 1 siamo noi. Quindi non abbiamo niente contro Vicari, così come non ce l'abbiamo contro Viviani e contro nessuno. Esatto, contro nessuno della fine. Facciamo il nostro lavoro, critichiamo, diamo dei giudizi, a volte a sproposito, e cerchiamo di fare il nostro meglio sempre nell'ottica di essere corretti però, cioè senza sparare a caso sulle persone. Cioè cerchiamo di analizzare le cose dal nostro punto di vista, poi a volte ci prendiamo, a volte diciamo delle sciocchezze, ma questo fa parte del nostro mestiere. E di quelli che si espongono. Per quanto riguarda invece Colombo, ci tenevo a dire che io personalmente, parlo dal punto di vista personale, come titolo, come giornalista, sono impressionato dallo strapotere, dalla personalità con cui gioca, perché comunque diciamocelo, l'anno scorso ha fatto un gol in un altro contesto, perché comunque non era forse tra i preferiti, l'attore, però comunque è un giocatore che per adesso la SPAL, su cui la SPAL ha vinto la scommessa, cioè è un giocatore che visto dal vivo ha una strapotenza fisica, quando parti nell'accelerazione non perde potenza, anzi, sempre a guadagnarne e anche il gol che ha fatto ieri comunque è un gol nato in una certa stanza simile, è uscito da un pressing tra i difensori, ha fatto una progressione attirata, secondo me, visto che comunque mettiamo tanto l'accento sulle cose che vanno male, va anche messo sulle cose che vanno bene, ossia Colombo per adesso, ragazzi, tantissima roba. Non so se hai visto le statistiche che abbiamo pubblicato oggi, zero palloni toccati in area. Ho visto, infatti quella è impressionante. Però 3-0 con. Sì, appunto. Ecco, Federico dice dopo 5 partite dire scommessa vinta mi porta a toccare qualsiasi cosa sferica vicino a me, non ha tutti i torti. Dopo, io non sono scaramantico e forse neanche tu, no, tu lo sei un po' in realtà. Però, ecco, Marta, tu sei scaramantica? Beh, no, dai, ingiusto. In giusto, va bene. Ok, siamo alle 21 e 23. Leo? È un bellissimo argomento, però, che è stato fuori nei commenti, però non so se vuoi aspettare o parlarne dopo. Di cosa? Spara. Vai, vai, andiamo, andiamo. Scrive, è stato esonerato Walter Mattioli da Masi San Giacomo. Ricapitoliamo un po' la storia. Walter Mattioli, dopo aver abbandonato la carica di presidente della SPAL, ricomincia dai dilettanti, dall'eccellenza, Masi Torello, Voghiera, squadra anche ambiziosa, di eccellenza, va a fare il consulente, o comunque, insomma, si aggrega alla dirigenza del Masi Torello, ma viene cacciato, almeno così sostiene il direttore generale del Masi Torello in un'intervista rilasciata alla Nuova Ferrara, che abbiamo ripreso in serata. Una situazione particolare, chiamiamola così, eh, Leo, cosa dici? Stefano scrive, è troppo grezmazzione. Ma non credo sia quello il problema. Non lo so. In ogni caso, sicuramente la sua ripartenza è stata rapida, ma è anche stata problematica a questo punto. I meriti di Walter Matteoli, presidente della Spalda, 2013-2021, non credo si possano discutere. È stato un presidente anomalo per gli standard del calcio italiano, perché di presidenti... Eh? È vincente, sì. Vincente, perché i campionati li ha vinti anche lui, assieme a tutte le altre persone che hanno contribuito a costruire la Spalda dei Colombarini. Adesso credo stia vivendo un momento difficile anche perché come fai a ripartire a 68 anni, se non sbaglio, dopo 8 anni così, dopo aver toccato la Serie A, cioè, ripartire dall'eccellenza è una sfida, è una sfida che però in questo momento è andata male per lui. È stato triste leggerlo comunque. In che senso? No, perché non pensavo che come personaggio gli potesse mai capitare una cosa del genere, no? Cioè, sarei curiosa di sentire la sua campagna. Beh, una persona così inclina alla diplomazia come lui, come potrebbe mai succedere di una roba del genere? Vabbè, fermo Orla prima che dica delle cose che... Cosa devo dire? Ho fatto una battuta ma non è che... Dovrebbe mentirsi e direi di cambiare quando ci vedeva in sede e ci guardava da lontano come per dire cosa aspettate ad andarvene, dai. A parte i giorni in cui era in buona, a parte i giorni in cui era in buona, perché Mattioli è così, cioè se lo trovi il giorno in buona ok, ma se lo trovi nel giorno in cui non ne vuole sapere è meglio stare lontani a distanza di sicurezza. Quindi è una fregatura che con noi fosse sempre ingiornata. Con chi? Con noi ragazze è una fregatura. Con voi ragazze forse c'era anche la componente della gioventù a renderlo un po' più ben disposto nei vostri confronti. Adesso Walter ti blocca a scrivere Buzzo, sì, può essere. Però non credo abbia profili social, quindi per adesso rimango a riparo. Perché altro ecco, se mi vede sulle strisce probabilmente mi tira sotto col suo Mercedes. sono il bersaglio numero uno degli automobilisti e verrà. Stai attento quando attraversi la strada? Com'è? Stai attento quando attraversi la strada davvero? Io sto sempre attento quando attraversi la strada. Dovresti fare più domande, Carola. Passiamo al prossimo topic. No, perché sei tu che non vedi l'ora, è da tre ore che mi tormenti. Parliamo dello stadio, parliamo dello stadio, basta che si senta odore di cantiere e tu già impazzisci perché sei proprio un ingegnere, non c'è poco da farlo. Ma perché hai qualcosa da raccontare, Leo? È per quello? No, in realtà non c'è molto da raccontare. Intanto cosa ha detto Giù ieri sera? Ricapitoliamolo perché mica tutti avranno letto. Allora, Giù ieri sera ha detto sostanzialmente che conta di avere lo stadio inovagibile entro dicembre. Questa è la potenza di quello che lui ha detto. Abbiamo fatto un piccolo approfondimento più che altro per fare il punto della situazione perché comunque è un argomento che oltre che a me che sai che sono un partito della vita di cantiere però comunque interessa anche agli altri tornare allo stadio visto che ora ci sono un partito della vita di cantiere perché non devi tirare su dei sacchi di malta quello è il discorso comunque fatto sta che la situazione è questa qui allora prendiamo dalle tue labbra esatto allora ci sono due filoni paralleli che stanno andando avanti uno che è quello che è eseguito dalla SPAL che ha commissionato all'ingegnere Calvi la presentazione esecutiva per mettere a norma quanto ha indicato l'ingegnere Pellegrino contestualmente cosa vuol dire questo spiegalo meglio che io sono ignorante cosa vuol dire cosa ciò che è appena detto ah semplicemente che il Pellegrino che è il tecnico del tribunale la procura esatto per dirla proprio così il tecnico del tribunale ha fatto le sue valutazioni e ha detto che ci sono not cose da fare la SPAL ha incaricato un professionista esterno un prestigioso professionista un prestigioso professionista certo l'ingegnere Calvi per fare una specie di controprogetto cioè per capire cosa di quello che ha chiesto Pellegrino effettivamente bisogna fare presumibilmente senza smontare lo stadio scusa ho una domanda ma quindi mi stai dicendo che secondo il tribunale o meglio secondo il professor il Pellegrino bisogna smontare le coperture di gradinate e curva esteri farle? Allora lui non ha effettivamente detto quali sono gli atti necessari a raggiungere determinati livelli di sicurezza però è chiaro che gli interventi che lui ha elencato e sono veramente tanti fanno sì che ai fatti comunque sia un lavoro veramente importante quindi questa è un po' la situazione comunque la Spalda dall'istanza del 18 agosto che è stata presentata con il nuovo sequestro dello stadio si è attivata ha nominato l'ingegnere Calvi per fare un nuovo progetto esecutivo e la Spalda sta andando avanti questi sono i motivi che hanno spinto Tacopina a dire che entro dicembre lo stadio potrà essere riaperto perché la Spalda nelle prossime due settimane di avere il progetto dall'ingegnere Calvi e poi chiaramente questo progetto deve avere una sua fase di calcolizzazione la fase esecutiva e poi la fase di chiusura quindi i tempi in ogni caso sono strettissimi perché oggi siamo al 22 settembre e per mettere in tutto un processo del genere è una cosa che bisogna correre anche da però parallelamente c'è anche l'altro filone ossia quello che le difese degli indagati hanno chiesto un incidente probatorio e risano di sequestro cosa vuol dire che hanno chiesto se effettivamente quello che ha chiesto sta diventando una puntata di Perry Mason questa cosa è quello che ha chiesto l'ingegnere Pellegrino effettivamente da fare domani c'è un'udienza in tribunale e ci sono due lineari possibili il primo è che venga accettata l'istanza il secondo è che venga ricettata l'istanza allora respinta insomma allora se viene respinta si ritorna da capo ma la spalla è comunque coperta perché sta davanti con il suo progetto la novità per me che io non sapevo è che se per caso domani venisse accettata il ricorso chiamiamolo così lo stadio se non domani dopo domani potrebbe essere potenzialmente già agibile quindi questa è la è un po' la questione quindi in questo momento gli unici indagati sono il costruttore che è Tassi ovviamente i produttori che sono anche io in Colombia e domani è una giornata importante in teoria quindi ora di domani pomeriggio sapremo qualcosa in più sapremo qualcosa in più è chiaro che appunto se viene respinto vabbè rimane tutto così o comunque si andrà altre cose se dovesse venire accettata questa richiesta allora dalla successiva partita in casa puoi aprire lo stadio al 50% allora non è detto dalla successiva perché magari nei tempi tecnici però diciamo che immediatamente potrebbero possono cominciare le operazioni per la riappertura interessante quindi questa è un po' le indicazioni che abbiamo ricevuto quindi domani c'è un aggiornamento sullo stadio domani bisogna andare in tribunale e piazzarsi da fuori in attesa che esca qualcuno va bene metterei tu Leo abbracciaconserte lì davanti come sei sui cantini ho altre grane domani da fare però c'andrà in più di un volentieri abbracciabusta abbracciabusta volevo leggere il bellissimo commento di Stefano che ci dice Gio ha detto che con le sue braccia vita 10 dadi al minuto in un weekend mette tutto a posto io sono sicura che lui ce la farebbe probabilmente è vero quindi insomma la stima di Tacopina mi sembra prudenziale a sto punto perché l'ho detto dicembre beh sì partendo dal fatto che lui è un avvocato e giustamente è un avvocato e quando si presenta in tribunale lì con la camicia bianca attillata secondo me nessuno si si permette di dirgli niente sono carte esatto no dai a parte gli scherzi non è detto che venga che venga accettata chiaramente anche perché comunque parte da loro e ci sono cioè è stata fatta sulla base di presupposti sulla base di una perizia di un perito da loro nominato però comunque la possibilità cioè ecco in ogni caso comunque io guarderei con fiducia anche quello che sta facendo la spalla con l'ingegnere Calvi quindi insomma in ogni modo verso Natale il regalo che la spalla farà sarà quello di aprire lo stadio si spera perché poi si sa che il giro della anche perché posso dire una cosa e Marta sa di cosa Marta non è l'unica in realtà Leo l'hai sperimentato anche tu visto che ieri sei tornato allo stadio cioè avere i tifosi ospiti lì in Azura Dispari è un incubo anche perché non si può usare il bagno cioè se tu sei uno spettatore di Azura Dispari o un giornalista in tribuna stampa devi andare dall'altro capo dello stadio per usare i servizi il che è assurdo è una taglia di ogni buon tifoso sì ma praticamente Marta tu allo stadio devi fare ufficio informazioni che ah sì edoardo dice c'è il bagno di Azura Dispari sì ma il bagno di Azura Dispari è stato sequestrato di fatto e può essere usato solo dagli ospiti dagli ospiti perché hanno messo delle sotto a livello field dice Selleri però non si può usare quello io tutte le volte che ho provato a scendere giù ho trovato lo steward che mi ha respinto con perdite quindi noi non siamo ricchi che possiamo andare nei feed box cioè alla stampa c'è tanto che diano il buono per il caffè tra l'altro quest'anno come stavo ieri con la marda che le bottigliette d'acqua per la stampa sono anche ridotte non c'è più quella da non c'è più il mezzo litro ti danno i 30 centilitri cos'è quella da aereo porterò le vostre lamentelle le riporterò anche perché con quella bottiglietta lì giù quanto beve dovrà bere 6 in una partita visto che deve rimanere sempre idratato va bene ragazzi tema successivo perché sono le 21.35 domenica c'è una partita che non è una partita qualunque almeno per il posto in cui verrà giocata e allora vediamo di farci aiutare dall'ospite che abbiamo già ampiamente annunciato lo vedo collegato solo in audio forse vediamo se riusciamo a collegarci con Michele Cremonesi che a Terni 4 anni fa cavolo sono già passati 4 anni e più c'era per adesso una rotellina che gira perché c'è qualche problema di collegamento ad ogni modo si torna a Terni vediamo se Michele riusciamo a recuperarlo si torna a Terni per giocare una partita di campionato molto diversa da quella dell'epoca ovviamente cos'era il 13 maggio 2017 ve lo confermate era quella la data non mi ricordo non ve lo ricordavo no madonna ci sono 2-3 dati da ricordare nella storia della spalla è come della storia in generale sembra che non ci sia niente da ricordare in realtà non è vero quali date ricordi della storia no no per piacere non mettiamoci mettiamomi in crisi e beh sei stata tu a tirare fuori l'argomento scusa adesso dimostraci la tua sapienza no no grazie Federico Matteucci dice che Cremonesie al Gala Connessione alla velocità di Viviani eccolo ecco Michele dovremmo averla risolta adesso buonasera ciao a tutti ciao ciao bello arrivederti grazie per aver accettato il nostro invito anche per me è bello grazie a voi grazie a voi dell'invito ti mettiamo in primo piano ecco subito qualche commento grande cremo Michele prima di parlare di Terni perché tanto secondo me alcuni tuoi ricordi saranno un po' offuscati credo come quelli di tutti gli altri per il posto è probabile che erano là quel giorno tu hai avuto a che fare con Taccopina nella tua esperienza a Venezia sì diciamo che il mio primo anno a Venezia quindi parliamo non la stagione scorsa ma quella 2019-2020 esatto quando io sono arrivato là era lui il presidente quindi si lo conosco e ho avuto a che fare soprattutto nella prima parte del campionato è stato presente poi diciamo che da gennaio in poi appena prima che ci fosse il problema del covid poi c'è stato il passaggio di proprietà all'attuale l'attuale presidente del Venezia quindi poi non l'abbiamo più visto sostanzialmente però mi lo conosco insomma ci hai avuto a che fare immagino che anche a Venezia fosse diciamo appassionato come si sta dimostrando qui sì sì assolutamente assolutamente uno che sono presidente che è presente vicino alla squadra alla piazza e quindi insomma sono contento che sia entrato lui con un progetto serio perché ovviamente anch'io sono molto legato alla spalla a Ferrara quindi insomma sono contento che sia entrata una proprietà seria che possa dare continuità e prospettiva a questo club Michele se noi ti diciamo terni qual è la prima cosa che ti viene in mente legata ovviamente a quel giorno magico ma onestamente ho vari ricordi sono passati 1598 giorni ho fatto il conto è una precisione che preciso che preciso ma in realtà la prima cosa che mi viene in mente è il boato della nostra curva nel momento in cui segnò poi il bene evento perché mi ricordo che dalla panchina non ci davano grosse informazioni sugli altri risultati però vedevo le facce che stronzi perché non vi dicevano niente scuse dei compagni no comunque giustamente per rimanere per rimanere concentrati per stare al nostro di risultato che ovviamente era la cosa primaria e dopodiché mi ricordo che avevo percepito il fatto che insomma con i risultati che c'erano insomma non fossimo ancora matematicamente promossi quindi mi ricordo che stavamo attaccando ed eravamo lì comunque sotto in fase di attacco quindi quasi non mi ricordo se nel settore esatto c'era una punizione se non sbaglio e ho sentito il boato dei nostri tifosi Secondi dopo una parata di Ledesma su Finotto che grida ancora ventetta esatto mi ricordo anche perché avevo fatto l'attore di testa e io me la ricordo bene ah ecco me la ricordo bene eri sul luogo del delitto sì sarebbe stato bello effettivamente concludere insomma con i gol di Mattia avremmo avremmo avuto il risultato anche noi però eravate eravate abbastanza eravate abbastanza cotti a quel punto sì obiettivamente eravamo un po' un po' è andata bene così ecco ma adesso invece che progetti hai cosa cosa farai Michele è inspiegabilmente senza squadra quando abbiamo compilato la lista degli ex e ho visto Crimonelli senza contatto ma siamo pazzi ma cos'è successo me lo sono chiesto anch'io me lo sono domandato anch'io e onestamente non credevo di ritrovarmi in questa situazione però è stato è stato un mercato molto strano sicuramente il più particolare degli ultimi tempi sicuramente ha inciso anche anche le problematiche legate al covid però pensavo di poter trovare una sistemazione invece non mi è arrivato praticamente nulla ed eccomi qua io adesso mi sto allenando da inizio a agosto con una squadra di Lega Pro vicino a casa mia e quindi mi sto tenendo allenato in attesa di poter trovare di novità esatto con la speranza di trovare una sistemazione ma è esatto Massimiliano scrive torna da noi onestamente mi sarebbe molto piaciuto però insomma hanno voluto ringiovanire hanno voluto ringiovanire avevano altre altre idee quindi è andata così ma in questo caso la domanda non è delle più piacevoli ma va fatta la categoria a questo punto sarebbe un problema o basta che arrivi il progetto serio no no onestamente basta che arrivi il progetto serio insomma è quello che speravo di trovare anche perché credo che un po' la mia carriera dica anche che sono uno a cui piace costruire qualcosa ed è una cosa che poi a maggior ragione a questa età con l'esperienza che ho mi piacerebbe fare quindi mi piacerebbe trovare appunto un progetto se dove provare a costruire a costruire qualcosa di importante purtroppo in me non è arrivato nulla di questo genere ad oggi quindi aspettiamo e speriamo che qualcosa si possa incastrare in futuro il più presto possibile onestamente perché non è non è bello vedere vedere gli altri giocare può essere a casa e comunque allenarti senza poi avere l'obiettivo della partita in compenso tu l'anno scorso hai fatto parte del Venezia e hai festeggiato un'altra promozione in Serie A insomma deve essere stato discretamente divertente è una squadra che alla fine ok aveva una buona base ma era partita abbastanza a fare i spenti nel senso che nessuno avrebbe mai pensato di vedere il Venezia in lotta per la promozione esattamente è un po' ho avuto la fortuna di fare tre promozioni dalla via là e mi ricollego Crotone Spal Venezia esatto e mi ricollego a quello che ho appunto detto prima penso di essere uno che ha insomma a conti fatti e per quanto ho dimostrato la mia carriera è stato in grado comunque di far crescere dei gruppi nelle squadre nel proprio percorso a volte sono stato più protagonista come la Ferrara a volte meno come magari l'anno scorso però insomma indubbiamente penso di aver dato comunque comunque sia il mio insomma di averci messo del mio e quindi è per quello che dicevo vorrei cercare di trovare un progetto un progetto serio indipendentemente dalla categoria a Ferrara sei tornato qualche altra volta senti ancora qualcuno del gruppo storico intanto informazioni servizio Marta guarda quel diavolo di telefono perché ti ho mandato un messaggio ok vai Cremo scusa allora a Ferrara ahimè non sono tornato recentemente se non per giocare da avversario da avversario però ho diversi amici e li sento tuttora ed è un mio impegno tornare il prima possibile perché ho veramente piacere tornare a Ferrara e dopodiché vabbè i ragazzi del gruppo li sento spesso ho sentito no scusa scusa Michele ho una curiosità ma i campioni del mondo 82 hanno la chat dei campioni del mondo 82 esiste una chat della SPAL 2016-2017 o no? no in realtà penso no non è rimasta però sarebbe stato bellissimo pensare è vero è vero ma anche perché abbiamo avuto cioè penso sia stata la nostra forza effettivamente il gruppo al di là delle qualità calcistiche che c'erano però abbiamo avuto quell'anno c'è stato un grande gruppo tant'è che ci sentiamo spesso con tanti dei ragazzi mi sono sentito oggi con con Nicola Gianni che ci sentiamo in realtà che è un ragazzo in molta music che ci sentiamo sempre ho sentito ieri con Luca Mora nel Castagnetti ogni tanto io comunque ho detto Cremora quindi sì infatti vi incrociate in piazza a bere il caffè dai esatto di incrociarci tutto Castaretto insomma ci teniamo in contatto con tanti di quel gruppo Ascolta ma voci di corridoio ci dicono che hai conseguito il patentino voci di corridoio c'è il comunicato della FGC dai non molto di corridoio però sì diciamo che l'anno scorso c'era la possibilità appunto di fare il patentino tra l'altro in modalità online e ho avuto la fortuna di riuscire a entrare perché ovviamente c'è una graduatoria è una cosa che comunque per il futuro mi potrebbe spero mi possa servire per il futuro quindi intanto abbiamo fatto questa ho fatto questa cosa e vediamo però diciamo che nei miei piani c'è ancora quello di giocare almeno per due o tre anni mi piacerebbe ancora giocare a buoni livelli dopodiché passerei al post carriera calcistica però ti vedi più come allenatore in un settore giovanile o in prima squadra? onestamente mi vedrei più a contatto con gli adulti sarà anche sì non ho non mi vedo non vedo quella cioè comunque col settore giovanile ma già direi un under 17 un under una primavera insomma un po' più grandicelli sì 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 a quello a genere te l'ho chiesto perché scusa completo del ragionamento te l'ho chiesto perché non più tardi tre se le fa ho incontrato Eros Schiavon che abbiamo fatto insieme tra l'altro è vero è vero stesso corso e lui adesso è una squadra di 2010 quindi proprio piccoli però quando abbiamo parlato gli si illuminavano gli occhi perché diceva io mi diverto tantissimo perché cerco di farli divertire ecco per questo ti ho fatto questa domanda certo ma poi adesso io dico così a livello teorico dopo di che una volta quando ci si metta anche con i bambini io comunque ho due bambini ho due figli piccoli quindi è una grande gioia anche vederli sicuramente giocare divertirsi a crescere con lo sport quindi adesso è solo un'idea così teorica mi piacerebbe essere più diciamo sull'aspetto tecnico tattico che magari di attività di base ecco non so se vedi i commenti che stanno passando sotto ma c'è Andrea appunto che dice mi mette malinconia a sentire questi nomi perché la storia non è per tutti effettivamente un po' è vero i nomi non lo è cosa? no non lo è affatto scontato esatto a parte che non lo è però veramente quei nomi il fatto di aver provato la spalla in Serie A gli ha dato ormai uno status di non so di spallinità per sempre di leggende dai quel campionato non ce l'aspettava nessuno forse neanche voi sicuramente neanche voi viste le premesse insomma esatto comunque siamo partiti da neopromossa quindi per cercare di fare una salvezza il prima possibile ecco poi dopo è stato diciamo un bellissimo un bellissimo percorso perché quando abbiamo iniziato a fare risultati abbiamo preso consapevolezza comunque delle qualità che c'erano e via via insomma è stato è stato un'annata fantastica ed è bello perché veramente io come tutti i miei compagni penso che sentiamo un legame con la piazza che è unico è una cosa che nessuno ci toglierà mai mi fa piacere ed è reciproca leggere il fatto che i tifosi stimano così è una cosa che mi riempie di orgoglio e vi ringrazio per tutto quello che mi hanno dato nell'anno e mezzo che sono stato a Ferrara Michele tu non te ne rendi conto ma se tu non avessi segnato quel cavolo di gola Cesena al 97esimo io e Leo saremmo andati a casa con una rogna addosso perché abbiamo preso tanta di quell'acqua ma tanta di quell'acqua che tornare a casa senza neanche un punto ci avrebbe fatto rosicare per la settimana successiva invece tu ci hai riscattati abbiamo rischiato anche di prendere gli schiaffi in tribuna stampa ti ricordi Leo perché i cesionati la presero bene con sportività perché poi Leo aspetta che Michele non sa che la partita finì su quel gol perché l'arbitro fischiò la fine e nessuno aveva capito chi aveva fatto gol perché siamo andati avanti 6-7 minuti ma chi l'ha fatto ma chi l'ha fatto ma chi l'ha fatto perché non si capiva neanche chi stava esultando c'è stata una mucchiata è stata una scena delle api impattite in campo avevamo tutti che correvano adesso anche perché il problema non era il nostro in realtà il nostro articolo poteva anche uscire qualche minuto più tardi però chi sta facendo la diretta i colleghi delle radio soprattutto esatto Sovrani Sovrani era fuori controllo Sovrani era fuori controllo e noi se ti ricordi orle ci siamo altati siamo esplosi in quella esultanza solo che altandoci in piedi abbiamo coperto la vista dei colleghi che erano dietro e stavano facendo anche i compagni alla fine mi chiedevano qualcuno è rientrato in spogliatoio ma hai segnato tu mi avete tirato fuori un bellissimo ricordo ovviamente uno dei più belli che ho anche perché hai segnato al 96esimo sì sì è stato proprio l'ultimazione dopo l'ultimazione mi ricordo che ho fatto una corsa fino dall'altra parte sotto il settore ospiti e mi ricordo che ero da solo sotto la curva è stato bellissimo erano tantissimi i nostri tifosi quindi è stato veramente uno dei più bei ricordi anche perché diciamolo non è che tu sia esattamente un abitué dei gol sei uno che va a saltare spesso però di gol ne fai pochi sì sì esatto ovviamente quando vado su riesco a essere spesso pericoloso però poi alla fine concretamente dei gol ho fatto solo nella stagione per è vero infatti sto guardando adesso quello di Cesena tu ultimo gol in B ma è pazzesca questa cosa sì che due o tre partite e dopo le hai anche giocate eh sì mi ricordo me ne hanno uno contro il Cittadella in casa è vero è vero ho avuto altre occasioni nelle altre scuole in cui sono stato però purtroppo gol pochi mi ricordo uno però che ti forse te ne sei mangiato anche uno abbastanza clamoroso a Ferrara perché ho ancora il ricordo di una foto che mi ha mandato Geppi il nostro fotografo in cui ti disperavi come se se avessi mancato un gol in una finale di un mondiale devo andare a recuperarla sei un po' pignolino come mi ricordo cos'è che sono? sei un po' pignolino beh quello lo sono sempre stato dai aspira quindi però insomma tu la Serie B la conosci bene insomma hai giocato sei stato promosso tre volte che idea ti sei fatto su questo campionato qua a me so che tu lo stia seguendo ma penso proprio di sì sì lo sto seguendo non ho visto tantissime partite ovviamente sto seguendo più risultati e highlight però insomma come mi sembra un campionato sicuramente di livello qualitativamente parlando e poi sappiamo che la Serie B comunque è una maratona quindi è difficile dare dei giudizi a questo punto è decisamente presto però penso ci siano diverse scuole attrezzate per per provare a competere in alta classifica e onestamente mi sembra appunto un livello medio alto forse probabilmente più alto anche degli ultimi anni quindi sarà sarà secondo me un campionato difficile ma vincente con probabilmente anche delle sorprese non so se si vede ma questa è la foto a cui mi riferivo oddio spalascoli sotto il diluvio è un fango pazzesco esatto esatto sì da lì ne abbiamo avute diverse occasioni mi ricordo che era stato veramente li aveva messi là al secondo tempo soprattutto però non mi ricordo non mi ricordo credo fosse comunque un angolo un'occasione qualcosa sì probabilmente è stata una palla o sbucata o che ci sono arrivato male però mi ricordavo queste immagini anche Mastegliano dice che anche la sua vicina si ricorda bene del gol che hai segnato a Cesena vuol dire che un po' di baccano l'ha fatto va bene va bene abbiamo fatto le 10 vai Leo andiamo in chiusura l'ultima curiosità per Michele visto che si sente con Luca Moradi recentemente ti aspettavi che in questa stagione fosse diciamo così un po' meno protagonista rispetto al solito perché sembra che Clotet in qualche modo preferisca giocatori di qualità diverse con caratteristiche diverse sì infatti ho notato che Fino non ha trovato molto spazio però Luca è un giocatore di assoluto valore per la categoria esperto quindi sono sicuro che nell'arco della stagione troverà il suo spazio e mi dispiace che non l'abbia ancora fatto in maniera importante perché sicuramente ha ancora tanto da dare secondo me e può dare sicuramente una mano alla squadra non lo scopro certamente io quindi insomma mi auguro che possa che possa trovare più spazio nelle prossime già da adesso e da qui in poi prima di chiudere faccio una riflessione e ti giuro Michele non voglio essere ruffiano ma di tutte le spal che ho visto quella della serie C dell'anno prima del tuo arrivo e quella della vittoria del capo di serie B sono quelle che che mi hanno emozionato di più anche per una ragione perché vi si incontrava in città perché eravate cittadini Ferrara a tutti gli effetti cioè vivevate nel tessuto sociale cioè vi si incontrava eravate sempre comunque ben disposti disponibili e sono quelle cose lì al di là delle vittorie sul campo che fanno rimanere nel cuore delle persone cioè io mi ricordo ancora con piacere quando ho incontrato te Luca e Casta durante l'internazionale a Ferrara che eravate lì che spulciavate il programma per capire se c'era qualcosa di interessante secondo me è quella lì la componente vera poi di una squadra che poi funziona assolutamente assolutamente insomma d'accordo con te infatti è quello che dicevo anch'io prima con l'anno lì si è creato veramente un grande gruppo a livello oltre che a quello tecnico calcistico a livello umano ed è stata veramente la chiave del nostro successo poi con la città si è creato con la città e con i tifosi si è creato questo legame speciale forse anche proprio per questo motivo perché abbiamo vissuto Ferrara proprio da cittadini e quindi io tuttora mi sento mi sentirei a casa Ferrara quindi questa è una cosa beh in tanti l'hanno comprata la casa Ferrara quindi chissà esatto esatto abbiamo due domande Caspa Antenucci c'è una lunga lista di ragazzi di quella squadra che hanno deciso di stabilirsi qua e allora ci chiedono intanto che ricordo hai di semplice beh Mista ho un ottimo ricordo è stata innanzitutto una bravissima persona e poi è stato bravo a tirare fuori il massimo dal gruppo che ti aveva quella stagione poi personalmente è stato uno di quelli che veramente mi ha dato più fiducia e più importanza quindi non posso che avere un ottimo ricordo e ringraziarlo per quello che ha fatto con me ok effettivamente non è male poi chiudiamo con l'ultima domanda di Massimiliano che dice c'è possibilità di vederti ancora con la maglia della spalla beh l'abbiamo detto prima questo l'abbiamo detto prima però chissà chissà non si sa mai io non avrei mai messo un euro io non avrei mai messo un euro sul ritorno di Luca Mora quindi se tanto mi da tanto chi può dirlo chi può dirlo a me sicuramente farebbe farebbe solo che piacere anzi non c'è bisogno neanche che lo dica se vuoi ti diamo il numero di tu e parli con lui ce l'ho già ce l'ho già allora mandagli un messaggio mandagli un messaggio che tanto ah ecco Buso ce la sta buttando in bacca chi era il più unto nella promozione io ho due o tre candidati poi non so se Michele vuole rispondere a questa domanda non lo so perché ero unto anch'io quindi non mi riconosco solo nella classifica degli altri sinceramente anche perché anche perché lì ci sono state diverse fasi nel senso terni ok poi ride in autogrill che sembrava la calata dei barbari poi lo stadio poi il giorno dopo c'era la festa col palco e tutto quanto anche lì c'era un livello di molestia e se non ero in grado per dare un giudizio sul livello degli altri perché quando abbiamo fatto la diretta l'anno scorso la diretta celebrativa dei tre anni della promozione Mora ha detto io per un mese praticamente non ho capito niente ecco quindi lo capisco lo capisco ricordiamo che è grosso comunque se proprio dobbiamo fare un nome vabbè del grosso grande performance grande performance ecco Maira che dirà il ride in autogrill rimane la storia sì perché io purtroppo non ho assistito ma mi hanno raccontato veramente di un saccheggio vero e proprio ecco sì sì potevamo anche prendere il frigo direttamente più o meno la stessa cosa Massimilio dice a me dà l'impressione che Eros fosse uno dei più Eros è un Veneto di piove di sacco come fai a metterti in competizione con lui su queste robe qua io ho avuto la fortuna di essere in campo per riprendere fare un filmato con i momenti dove c'era la curva che mi aspettava che avrà lanciato 800 milioni di fubogeni non so se ti ricordi non si vedeva neanche il muro effettivamente così da esterno mi sembra che Cristiano di Grosso in quel momento era uno di quelli di forma proprio in quel momento lì e poi magari c'erano altre fasi però può essere può essere si Gris ha fatto divertire tanto sia in quella in quell'occasione che durante l'anno insomma era un personaggio super super positivo tra che carismatico quindi ha avuto una grande importanza in quella stagione bene mi sento tuttora insomma abbiamo un ottimo rapporto che con Trieste figuriamoci direi che possiamo salutare Michele Cremonesi ringraziarlo ancora non solo per questa sua presenza da noi che è sempre stata una cosa che avremmo voluto fare l'anno scorso non siamo riusciti per via dell'ufficio stampa del Venezia quest'anno ci siamo riusciti quindi grazie Michele e grazie grazie a voi ragazzi che hai fatto per la spalla perché è in bocca al lupo trova sta squadra per favore non si può vedere Michele Cremonesi a casa sinceramente lanciamo un appello se qualche procuratore prendete Cremonesi esatto hashtag prendete Cremonesi esatto grazie Michele è stato un piacere essere qua alla prossima un saluto a tutti i tifosi e a Perlora ciao ciao e allora salutiamo Michele Cremonesi io sono sempre molto felice di rivedere i ragazzi di quella di quell'annata perché tra l'altro abbiamo fatto anche diversi diretti vi ricorderete con Arini con Mora con Eros con Gasparetto con Finotto con Gianni non ce n'è uno che non sia un bravo ragazzo con cui si è piacevole chiacchierare cioè è quella la cosa più bella quindi va bene ragazzi è il momento del nostro giochino Ternana Spal chi chi mettiamo chi mettiamo sui nostri scudi allora io questa volta voto io Mancosu va bene va bene accetto la sfida accetto la sfida accetto la sfida chiaramente come positivo non come negativo Mancosu più perché dobbiamo vedere chi sarà il primo a mettere il coso negativo vai mi piace vincere facile dico sec sec non è così vincere facile lo metti in positivo o in negativo no in positivo ovvio ok perché a Reggio Calabria non è che abbia fatto chissà che sto granché entrando dalla panchina ok vinceremo 1-0 con il gol di Germinale Germinale che è andato a Rimini siamo al 59esimo minuto quindi siamo giusti in pacca ragazzi no sai io che vi dico vi dico Tiam Tiam che è stato anche ma non in positivo ah sì davvero voglio 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 ma voglio lanciare un guanto di sfida agli scaramantici no in realtà con Demba poi io mi sono divertito oggi a leggere tutti i commenti che sono scaturiti dal nostro post con le statistiche di Demba e c'era anche il suo like su Facebook ah sì davvero quindi ho detto ah che figata se li hai letti tutti quei commenti tra cui quelli che dicevano ma le scars a sbagliare in B e qua e là e su e giù tra l'altro probabilmente guarderà questa diretta se non è qui in diretta con noi probabilmente la guarderà domani la guarderà e probabilmente mi scriverà un messaggio per dirmi che sono uno stupido e anche lui vorrà investirmi con la macchina così facciamo tre su tre no lo faccio lo faccio per gli scaramantici lo faccio per gli scaramantici quindi Demba Demba ti amo va bene adesso allora segna questi tre pronostici ci ragioniamo tra la settimana già segnati intanto mi sono già segnato il punto della prima puntata ah sì anche bonus però no non mi ha sbloccato Viviani Massimiliano mi dispiace per rispondere alla tua domanda ne abbiamo parlato però nella prima parte della diretta quindi invito te tutti quelli che non l'hanno fatto di guardare la registrazione appena sarà terminata questa perché nella parte iniziale abbiamo parlato anche del nostro blocco su Instagram che poi non è un blocco mio personale ha bloccato il profilo dello spallino è una cosa un po' diversa non ha bloccato me non credo neanche sappia come sono fatto però solo perché non vi seguite la vicenda ormai ormai abbiamo detto all'inizio questa è come una serie tv ma lo è davvero perché ci sono storie che si aprono proseguono e il gatto della Marta e Viviani che ci blocca su Instagram e via così e il ginocchio anche lo so se il ginocchio il ginocchio seducente della Martina vabbè vabbè ok ragazzi è sempre un grande piacere speriamo che le persone che ci hanno seguito ci siano divertite e che si divertano anche quelli che ci guardano in differita che sono tanti ne approfitto per ringraziare anche le persone che mi hanno fermato appunto la scorsa settimana per dire ma che bravi la vostra diretta la guardo sempre cioè io non sono mai preparato a queste cose e quindi grazie a tutti davvero e ci vediamo mercoledì prossimo dopo tenere la spalla e intanto Buzzo ci dice Viviani sblocca hashtag facciamo l'hashtag Viviani sblocca e trovate una squadra cremonesi buonanotte a tutti e ci vediamo ciao a tutti buonanotte a tutti e ci vediamo di prossimo